Per mettere a tacere definitivamente tutte le balle, le bugie che sono state dette sul MES, ho scaricato e stampato per voi solo documenti ufficiali che raccontano come è nato il MES. Chi lo ha votato, chi lo ha voluto, chi lo ha firmato. Eccoli a voi. Questo è un documento ufficiale del maggio 2010. Consiglio europeo, l'Italia è rappresentata dal ministro Giulio Tremonti, del governo Berlusconi, dove anche Lameloni è ministro e anche Bossi, anche Maroni, tanti ministri della Lega. Alla fine di questo documento già, prefigurando il MES si parla di rigorosa condizionalità. Questo è il documento più importante di tutti. La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ci spiega che il 25 marzo del 2011 il Consiglio Europeo ha scelto di modificare il trattato fondativo dell'Unione Europea aggiungendo il MES. Attenzione, per modificare il trattato fondativo serve l'unanimità. Se l'Italia avesse voluto bloccare il MES, poteva farlo dicendo no a questa scelta. E invece ha detto sì. Ma chi ha detto sì? Chi ha firmato questa modifica? Silvio Berlusconi. Qui ho le mie redici. Presidente del Consiglio dei Ministri di un governo che aveva Giorgia Meloni ministro, insieme a Ignazio Larussa, insieme a Fitto, insieme a Bossi, a Maroni, a Tremonti, a Calderoli. Buona parte del gota di Fratelli d'Italia e della Lega. E cosa c'era scritto fin dall'inizio? Non vi inventate balle. C'era scritto la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo, cioè del MES, sarà soggetta ad una rigorosa condizionalità. Quindi è stato Berlusconi, capo di un governo con la Meloni e con la Lega, a volere il MES e firmarlo in Europa. Sono sentimentale. Se loro avessero detto no, questa gazzetta ufficiale non sarebbe esistita, perché era obbligatoria l'unanimità. In questo documento ufficiale è spiegato nel dettaglio come funziona il MES e alla fine ci sono anche le cifre che ciascuno Stato deve dare al MES sulla base della chiave BCE. Sempre nel periodo in cui il Presidente del Consiglio è Berlusconi, la Meloni è Ministro, la Lega è al Governo. Questa è una bella foto del Ministro Tremonti, Ministro del Governo Berlusconi, collega della Meloni, di Bossi, di Maroni, di La Russa e di Fitto, che firma il MES, come dice la Didascalia. Quando vi dicono quindi che è stato il governo Monti a volere il MES, dicono il falso. È vero che il Parlamento sotto il governo Monti ha ratificato la scelta europea del MES. Ma attenzione, senza Berlusconi, senza il governo della Meloni e della Lega non avremmo avuto il MES perché serviva l'unanimità, quindi il Parlamento italiano non poteva ratificarlo. Quella ratifica segue una scelta precisa del governo di cui faceva parte la Meloni e la Lega. E quest'altro documento ufficiale, questa volta del governo italiano, ci racconta che nell'agosto del 2011 il presidente Silvio Berlusconi e il segretario Gianni Letta convocano un Consiglio dei Ministri e mettono all'ordine del giorno la ratifica del MES. Quindi è vero che poi il voto è stato fatto quando il governo Berlusconi era caduto e c'era il governo Monti, ma già il governo Berlusconi aveva messo all'ordine del giorno la ratifica del MES perché è stato il governo Berlusconi, e ce lo dice la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a volere il MES in Europa con una rigorosa condizionalità. Chi dice che pensava a un altro tipo di MES dice il falso perché ha firmato la rigorosa condizionalità. Ma attenzione, il MES deve essere attivato su richiesta di un paese, quindi finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo e Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, l'Italia non avrà il MES. MES no. Tutti i documenti che vi ho mostrato spiegano una cosa in maniera incontrovertibile. Carte alla mano, dall'estrema destra, Fratelli d'Italia, poi la Lega e Forza Italia, Popolo della Libertà, Monti e il PD, tutti almeno una volta o direttamente o indirettamente hanno votato, voluto e firmato il MES. Tutti tranne il Movimento 5 Stelle, che è l'unica forza politica che non ha mai voluto il MES, che non ha mai firmato il MES, che non ha mai votato per il MES, né in Europa, né in Italia, né al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, alla Commissione Europea, né nel Parlamento Italiano, né Giuseppe Conte, né il Movimento 5 Stelle. Siamo gli unici a non avere mai firmato per il MES. Tutti gli altri lo hanno fatto almeno una volta. Quindi vi invito a fare circolare questo video e a raccontare la verità, documenti alla mano, sul MES. Chi lo ha voluto, chi lo ha firmato, chi lo ha votato, alla faccia di quelli che oggi dicono ancora un sacco di bugie. Grazie a tutti.